Inaugurati a fuorigrotta i primi due piani del nuovo edificio della scuola media Silio Italico. I lavori erano iniziati nel 1998 ed erano stati più volte interrotti, tanto da far diventare questa scuola un piccolo caso emblematico nel quartiere Flegreo. Finalmente mettiamo un altro bel tassello su questa scuola, su questi lavori che sembravano interminabili, ma grazie alla tenacia, alla buona volontà di questa amministrazione in generale, a partire dalla Municipale Italia, all'assessore, all'ambiente, al sindaco, abbiamo portato avanti. Una bella scuola, una bella realtà, un quartiere edificio dove tante altre strutture invece sono in sofferenza. Dopo l'inaugurazione della palestra aperta nel 2012, vengono oggi consegnate agli studenti le nuove aule attrezzate. L'asilio Italico accoglie circa 600 allievi della scuola media. Spazi che merita perché la comunità scolastica li aspettava da tanti anni, i lavori erano stati interrotti e con l'amministrazione, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a riprenderli e a farli completare. Per cui finalmente oggi la comunità dell'asilio Italico riceve le aule del secondo e del terzo piano e può veramente dirsi scuola, scuola nuova, scuola all'avanguardia, perché in quelle aule sorgeranno finalmente i laboratori da tanto tempo atteso. Grazie. 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 Grazie.